Un colpo andato a segno, si parla di diverse decine di migliaia di euro, sarebbero circa 80.000. Due rapinatori questa mattina si sono introdotti nella filiale della banca di Piacenza del centro commerciale gotico e ne sono usciti con un cospicuo bottino. I malviventi hanno agito tempestivamente, tutto accaduto nel giro di due minuti. Erano circa le 10.30 quando due persone con il volto parzialmente coperto si sono introdotte nella banca al cui interno si trovava un solo dipendente. I rapinatori probabilmente non erano armati, ma hanno minacciato l'uomo fingendo di essere in possesso di una pistola nascosta nella tasca della giacca e costringendolo ad aprire la cassa continua della filiale e facendosi consegnare la cifra di 80.000 euro. Dopo aver intascato il denaro i rapinatori sono usciti in tutta tranquillità senza destare sospetti e confondendosi tra i passanti del centro commerciale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Livri e la squadra mobile della Questura che sta effettuando le indagini, visionando le telecamere di sorveglianza del centro commerciale e della banca.